Dopo pizza e birra, dolce e liquore, questo è il tema del secondo dei quattro venerdì all'alberghiero di Paola, pomeriggi dedicati alla cucina e a prodotti gastronomici, organizzati nell'ambito del Polo Beta Calabria Med. Laboratori, cooking show e momenti di formazione per docenti e studenti, questo è il filo conduttore di un progetto che vuole valorizzare al tempo stesso i prodotti locali. Occhi puntati quindi in questo secondo appuntamento sui dolci e sui liquori, alcuni da sempre legati alla tradizione calabrese, altri ispirati a prodotti tipici. È una sperimentazione che è partita in una formazione rivolta prima ai professori, adesso speriamo che si allarghi anche successivamente agli alunni per fargli conoscere e toccare con mano il nostro territorio e le nostre eccellenze, che sono tutti i vari settori che questo progetto va a individuare, quindi dieta mediterranea, pasticceria, mastro pastaio, mastro licuoraio, sono quelli settori che a una regione come la nostra, a vocazione turistica, interessano realmente e possono dare una spinta maggiore per l'economia. Questo progetto si prevede essenzialmente la formazione degli alunni con stage sul campo, con alternanza scuola-lavoro, con formazioni mirate in quei settori che servono a far accrescere la conoscenza individuale, e a dare un servizio all'utente finale che possa essere quanto più completo possibile.